La crisi di governo ed eventuali elezioni anticipate potrebbero non giocare a favore di Maglio Torquato. L'eterogenea maggioranza del sindaco di Nocere Inferiore, in caso di chiamata alle urne per le politiche, rischia di ritrovarsi su più fronti. Stanno saltando alcuni schemi. A beneficiarne potrebbero essere gli attivisti del Movimento 5 Stelle. A fargli da cassa di risonanza e da campagna elettorale, con il minimo sforzo cittadino, sarebbero i portavoce alla Camera e al Senato. Il risultato potrebbe essere sorprendente, soprattutto in caso di election day. E molti però dicono che il voto locale e amministrativo è differente da quello nazionale. Lo ribadisce pure il sindaco Maglio Torquato. Visto delle amministrative, ormai si stanno un po' muovendo tanti. Questo incide? Non so se inciderà, può darsi, potrebbe incidere. Lo dico con assoluta serenità di analisi, nel senso che è un fenomeno che è nell'ambito della dinamica politica generale, perché si innesta in una più importante vicenda nazionale di rappresentanza politica, di ritorno verosimilmente ad un sistema più strettamente proporzionale, con recupero di spazi per i singoli partiti politici. Purtuttavia, come ho avuto modo di dire, le elezioni comunali restano elezioni comunali, perché c'è un fatto differente rispetto ai fatti politici nazionali. C'è l'elezione diretta del sindaco o degli organi esecutivi e quindi è su quello che si misura la competizione più che sulle aggregazioni strettamente politiche. Tanto per fare un esempio, se un centrodestra o un centrosinistra o un centrocentro si organizzano in quanto coalizioni politiche e propongono poi un candidato sindaco di scarso appeal, perdono lo stesso le elezioni.